Sono nato e cresciuto in territorio gardesano, a Garniano. Sono molto radicato nella zona dell'Alto Garda, dove ho questa grandissima passione per gli olivi. Purtroppo là però la vite non è coltivabile e quindi nelle nostre ricerche abbiamo cercato un territorio, un contesto che fosse comunque anche simile. Trattandosi di una realtà piccola c'è la possibilità di avere il controllo di tutti gli aspetti, lo reputo un valore aggiunto. Fare un'enologia un po' più semplice, un po' meno invasiva e cercare di avere un prodotto più derivante dal vigneto. Mi piacerebbe che quando un cliente stappa una bottiglia e beve un bicchiere di vino, possa avere un'emozione. Riuscire a trasmettere la sensazione che il cliente può avere assaggiando i nostri prodotti e ricondurli a chi l'ha fatto. Ci tengo a controllare tutti i passaggi della produzione per ottenere un prodotto di qualità, un prodotto di nicchia. Grazie a tutti.